Non solo l'Hub del riciclo tessile, anche l'essiccatore fanghi proposto da Gida parteciperà al bando ministeriale per ottenere in tutto o in parte gli 8 milioni di euro necessari per realizzarlo attraverso i fondi PNRR. Il progetto, già esecutivo e con autorizzazione ambientale, avrà una capacità di trattamento di circa 10.000 tonnellate e permetterà di ridurre del 70% il volume dei fanghi da smaltire con un risparmio di circa un milione di euro all'anno. Vengano asciugate attraverso dell'aria calda in modo da perdere in volume, in peso e anche essere più facilmente gestibili. Quindi tutta la parte di fanghi che vengano portati fuori a smaltimento potranno essere in minore quantità e più facilmente trattabili con un vantaggio in termini di costi e anche di performance ambientale. Il polo di essiccamento che verrà realizzato all'interno dell'impianto di depurazione di bacio a cavallo risulterà autonomo dal punto di vista energetico grazie alla realizzazione di un sistema di cogenerazione a gas naturale effettuato con due apparecchi per la produzione di energia elettrica e termica.